Uè ragazzini buonasera Siamo qui a cena sono le 7 meno 10 E guardate qua Cosa abbiamo comprato Guardate 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 ragazzi Ragazzacci della notte Ragazzacci del buongiorno Oh yeah Se lo fa vedere Aspetta Il cuore Una bugia Lo stinco Aspetta che lo metto così Mamma mia quanto è tenero Wow Ma è lì? E qui ci sono delle splendide Guardate alla fine la busta che ci mettiamo dentro No alla fine questa busta E lì? E qui ci sono delle splendide patatine Anzi Io non poco Apri la parte sbagliata Apri Ah no E' la plastica che c'è Eh sì Per non farlo ingere Vediamo Aspetta con queste patatine Oh Le patatine del Baden Vediamo Gnappe 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 Tieni presente che sono patatine su gelate Patatine su gelate Allora ragazzi Novità Novità grandiosi Grandiose Stasera abbiamo fatto il contratto Telefonico Di internet Aspetta Aspetta Quanto è grande Se lo mangeremo tutto Inizio Quanto è grande Madonna mia Mi sa che lo mangeremo così Eh? Che cosa? Quasi in testenza? Se lo spolpi No aspetta Mangiamo a pezzi così Senza che lo dividi Eh? Se voglio togliere l'osso Se riesco Oh assaggia questo Chi? 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 Oh Madre celeste Oh Oh Assaggialo Eh Assaggia Nella parte chistotica Assaggia l'amore Oh 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 Hai alzato gli occhi al cielo Buono 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 E tutto questo Ci è venuto a costare La bellezza di Dieci euro Dieci e cinquanta Dieci euro e cinquanta Raga Però guardate Allo sette e cinquanta Costa lo stinco E due euro e cinquanta Quanto è? Tre euro e cinquanta Tre euro Tre euro sì Mamma mia Oh Voglio togliere questo caspita Guardate gli folletto guardate Allora stavo dicendo Ho fatto il contratto telefonico Ehm Così con il numero nuovo tedesco possiamo avere internet Internet Possiamo whatsappare Possiamo rispondere ai vostri commenti Ettore io leggerò i tuoi commenti ma non risponderò No bugia E poi Se tutto va bene Venerdì Sabato No Venerdì dodici No bugia che sto dicendo Quando è che ci arriva internet? Sabato Venerdì Giovedì dieci Giovedì dieci Ci metteranno Il coso fuori Diciamo attaccheranno le varie Che coso per andare su internet? I collegamenti per andare su internet a casa Però Ma è il freddo che sta facendo? Sto stagliando Devono arrivare ancora il modem a casa Eh E poi Se tutto va come Dovrebbe andare Per Sabato O domenica Eh ho dei seri dubbi Abbiamo la televisione Tutto questo Succederà O non succederà E' successo solo oggi Beh Comunque Gli analisi ragazzi Sono andati tutti bene Ah eh Gli analisi del sangue tutti a posto Tutto bene Tutto bene Tutto bene Niente Io ho il pene grosso Scusate Io sono un po' Io sono un po' ucciso No bugia Vanno bene anche a me L'unica cosa che mi hanno trovato Una punta di bronchite Insieme Insieme alla sinusite Però Nulla di grave Perché Mi hanno dato l'antibiotico Da prendere E Dovrei stare A posto No? Yeah Oggi mi sa già La cura Il primo Il primo cosa La prima pignola Mi apre la busta Così Non lo darò a Lily qua Non lo darò a Lily Il cinque di maiale No? Eh si Mettilo Eh vabbè Mettilo qua dai No Quanta roba Me ne dico Beh Buon appetito Buon appetito Es guardalo Piatto quasi finito Semi vuoto Questo Bisognava mangiarlo caldo Perché questo qui È diventato un po' secco Quando Si è raffreddato E poi Questo qui È la crosta Che è un po' dura Però era anche assai Era anche assai Quindi questo domani Sarà il pranzo di Lily Mamma mia E sarà felicissimo Più l'osso di Che faremo spolpare Quando nel pomeriggio Quando nel pomeriggio Noi ce ne andremo Che dobbiamo andare a fare il corso Ragazzi Dobbiamo andare a fare il corso domani Stiamo imparando Piano piano Stiamo imparando Vero? Ragazzi Io andrò a nille Perché Tra qualche ora Mi devo alzare Sono Sette e mezzo Sono 8-9-10 Dai 2 ore di sonno Eh Vabbò ragazzi Beh ragazzi Ma non avevate detto che Dovete lavorare sotto L'8 ora No Comunque ragazzi È sparita la nieve Perché è fatto un giorno di pioggia Ho lasciato tutta la nieve Vai vai Non ho potuto fare Il pupazzo di nieve Non ho potuto fare l'angelo L'angelo Comunque Mi hanno detto che Gennaio e febbraio Saranno i mesi Dove la nieve Cadrà e non se ne andrà Tanto facilmente E quindi poi lo faremo Yeah Beh ragazzi Io vado a nille Il video di oggi termina qui Condividete Commentate Iscrivetevi Mettete un mi piace E buonanotte Ciao 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 Ciao